Caldo, un caldo insopportabile. Si cerca un po' d'ombra, di rinfrescarsi in qualche fontana. Le temperature sono roventi e nei prossimi giorni potrebbero superare i 35 gradi. La percezione del caldo è ancora maggiore per via del tasso di umidità alle stelle. Nelle Marche è emergenza caldo. Il passaggio dell'anticiclone africano si fa sentire e da domani, secondo la protezione civile della Regione Marche, è previsto un ulteriore aumento delle temperature. Aria bollente anche ad Ancona. I pronto soccorso dei vari ospedali in questi giorni sono affollati per malori dovuti al caldo torrido. A risentirne maggiormente anziani e persone con problemi di salute ricorsi alle cure dell'IRCA. Noi stamattina siamo assolutamente pieni. Sono molte persone da ricoverare e quindi ci siamo attivati già dalla prima mattinata per cercare posti letto in ospedale dove poterle ricoverare. Nei nostri pazienti molto spesso il caldo provoca un peggioramento di malattie respiratorie, cardiache, provoca magari una disidratazione con un peggioramento dell'insufficienza renale e anche degli stati confusionali. Gli esperti consigliano di bere molta acqua a temperatura ambiente, almeno un litro e mezzo o due, evitare bevande con caffeina e teina e quelle contenenti molti zuccheri, mangiare frutta e verdura, fare piccoli pasti durante il giorno. Se possibile evitare di uscire nelle ore più calde dalle 11 di mattina alle 18 di sera. Se comunque si deve uscire coprirsi il capo con un cappello, vestire degli abiti comodi, di tessuti naturali, cotone, lino perché questi favoriscono la traspirazione, eventualmente anche utilizzare una crema protettiva se proprio si deve uscire in queste ore molto calde, ma assolutamente evitare di fare degli sforzi. Cercare di trattenere appunto durante il giorno i condizionatori attivati se sono disponibili, non con una temperatura troppo bassa, 25-26 gradi, di solito una temperatura giusta, ed attivarsi nella prima mattina e nella sera per tenere invece le finestre aperte e favorire la circolazione di aria.